Sì Eccoci qua zia Eccoci qua, sì Pronti Oggi che cos'è? Oggi è il 28 maggio Oggi è il compleanno di Vilma Tanti auguri zia Mi ha fatto gli auguri anche il freddo prima Tanti auguri zia Tanti auguri, no? Qua c'è il regalo Qua c'è il regalo, grazie C'è quello che c'è da dentro qua Apri, apri Che qua c'è poca batteria Sennò non riusciamo a fare il video Ma come si chiude quella bozza? Com'è l'ermetica? Ma che è l'ermetica? Avevo due graffette avevo messo Tira fu Una roba è tutta fuori Sai cosa sarà? Eh, vonde, dai Guarda la borsa Adesso vediamo cosa c'è dentro Tira su Tira, tira su Ma no, ecco, dai Tira, tira Dai zia, dai Tira su, ecco Dai, dai Oh, gira Gira lì No, dall'altra parte Cosa c'è dentro? Mi c'è che stili essi sono qua Quale è l'orologio? Eh, madonna santa Anche l'orologio Ti ho preso un orologio Hai preso? Sicuro che mi sono contenta Vedo l'ora e l'ora è qua Eh, proviamolo Sì Dammi il polso Bello, è bello Fai il pugno Adesso lo chiudiamo Eccolo lì Adesso è l'ora della torta Eh? Adesso è l'ora della torta È una torta speciale però zia Sì Non c'è ne da dire Eh, adesso apriamo la torta Eh, ma è una torta speciale zia Eh? Oh, se viene lì S'ha tenta di non farla cadere Sì Cos'è scritto lì? Buon confrano E sotto? Zio te Sì E cui è lì nelle fotografie? Io c'è che musica Che musica di scrabbile Eh Cui è lì? E mi portavo anche io Tutto avrei pensato Ma non ne vado a 23 anni Avrei avere quella fortuna Di avere questi Dei nipoti cos'è No Tieni qua che poi Ti vedi sulla carta Adesso si mangia? Eh Adesso si mangia Sei contenta? Sei contenta, sì Apre un bicchiere di vino Di quel bianco Che è apportamente Per i dolci E qua qui sei Oh, se viene lì Si vede che sono accaldate Che sono sul mondo rossa, no? Eh Proprio bianco Proprio bianco Sei contenta? Attentissima sana Proprio bianco Quanti anni facciamo oggi? 83? 83 anni oggi E vedi sei che mi tormento Eh Sei contenta di essere arrivato a 83? Sono contenta di essere arrivata Mi auguro a tutti che arrivano Ma anche Non solo 83 Ma tanti di più Che avranno la vita più felice Più Serena della mia Io sono felice nel mio Anche se sono malata Ma va bene lo stesso per il momento Arriveremo a 103? 103? Ancora 20 anni? E non è che me sognano Dove ti va? Non troppo Mi basta 83 Bene zia Bene zia Mi basta Tutti i tuoi fan ti fanno tanti auguri di buon compleanno Grazie a tutti quelli che mi stanno ascoltando e vedendo Che mi fanno auguri E mi auguro a tutti un buon anno Tanti anni di vita felice Ascolta zia Facciamo Va sul mus Lupo Alberto Sì Devi dire Va sul mus Lupo Alberto Ma no Va sul mus Lupo Alberto Va sul mus Tu e tu Ah no Sì E' un ragazzo di Youtube che ti segue che si chiama Lupo Alberto Sì Di va sul mus Lupo Alberto Va sul mus Bene adesso Lupo Alberto Ah va sul mus Sì Non so Sì E sono tanti Non mi fanno stai male a me tante cose Va sul mus Lupo Alberto Oh la Vedi che sarà contento lui Che lui ti commenta sempre Ma tu sarai giovane Lupo Alberto Vrai 20 anni forse Eh non sappiamo Non si sa Non si sa Bene zia Un saluto a tutti Ciao a tutti E lascio un muro 12 E alla prossima Alla prossima Se sono viva Tanti auguri zia Grazie Se viene Se viene